riserva soffresa, ma speriamo che questa volta vada tutto bene, mi sono certa. Grazie ancora e buon febri agosto. Grazie a voi. Per chiudere a tutti quanti un ringraziamento, non so se ci siete ancora, ma un ringraziamento per tutto quello che avete fatto durante questo periodo di pandemia. Dove l'impegno è stato massimo da parte di tutte le corse di Polizia e quindi un ringraziamento particolare a tutti voi. Grazie e buon febri agosto.